Occhio a questo dribbling pericolosissimo di Ferrari contro Luppi, la perde Ferrari, poi la ritrova, ancora Ferrari di fisico, Ferrari protestano quelli del Modena, volevano il fallo di Ferrari, lascia andare Pinzani, Palladino Centrocampista centrale, Martella ma sui piedi di Anto che però è inciampa sul pallone, allora Salzano per Palladino Martella, Ferrari rischia il controllo, nessuna impressione però Cambio gioco Stoian, la velocità di Stoian, arriva fino in fondo, Stoian per Ferrari, in mezzo sul giro fallo, Palladino 30 metri, Palladino per Ferrari, Ferrari in mezzo, arriva di Roberto Ricordo il vantaggio del Pescara a Como e quello dell'Avellino contro il Latina, intanto Ferrari sinistro ha preso coraggio Stoian, toccato senza fallo da parte di Lanzafame, è ripartito Fossati, subito il lancio per Ardemagni Ardemagni attaccato da Ferrari, non c'è fallo neanche qui Martella, il pallone di Martella sul secondo palo, non c'è nessuno, allontana di Marco, poi Ferrari che vince un rimpallo, Ferrari carica al sinistro, Ferrari Tuga bene, Sbappo che fa le partite d'azione in contropiede ed esterno Tos Santos arriva sul pallone Venezia, Porto, Sommaga, San Mignato, passaggio al crottone, Arreglini Parte in velocità sulla destra, fermato da Ferrari, in fanno laterale Il Livorno però non concede nulla e riparte anzi, attacca Livorno con Baez, uno contro uno, Baez prova a passare contro Ferrari, alla meglio Ferrari, Baez ancora, Baez, ora in porta, tutto fermo. Nel Chiorri, inizio di Nel Chiorri, lo spaggia contiamo, se non può puntarne nel Livorno a Nel Chiorri, Nel Chiorri, Nel Chiorri vuole fare tutto da solo. Tosantos, Ferrari, Veroni che passa, c'è Martella, che fa andare? Allarga da Stojan. Littrante per Ferrari, atterrato da Olivera, calcio di rigore. Il fondo è grande inizio. Ha fatto il continuo per Puglias. Al Ferrari che perde la coordinazione. Allarga il dodo, attenzione in sedimento centrale da parte di Budimir, con i piedi la rispinta, poi Ricci. Calcio a male Ricci, riprova il pallone Budimir. Giornelli, con il dubbio, ha preferito più di intervenire, non fischare il calcio di punizione, che sembrava netto in favore della Perugia. Qui anticipato Fabinho, Rosina, Buscas. Giorno, 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 Giorno. La profondità, attenzione di Roberto, va a rubare il tempo a Ferrari, di Roberto che mette in mezzo, poi Ferrari rientra. Ciano, Crivello, Frara, rischia sull'attacco di Oduamadi. Vai in avanti a cercare Curiale, chiuso molto bene da Ferrari. Il secondo palo, la sponda e poi il salvataggio di Ferrari. Da assumare con E, con E, carica il sinistro, con E, apre per Covi, depilato, la mette in mezzo sul secondo palo, Castaldo anticipato all'ultimo da Ferrari. Giorno, lascia libera Salsano, che canta il sinistro. Giorno è deviata e poi allontanata da Mamusaci con Curiale. L'apertura di prima, c'è l'intervento. Il ruolo è che... Ah, infatti che tu hai... attenzione. Curiale. È da... Per l'aria. Per l'aria. Per l'aria. Grazie per la visione! Grazie per la visione!